I bambini cattivi è tratta da un libro omonimo di Silvia Tortora, molto bello, e lei mi ha autorizzato a trasporlo in musica, ovviamente parla tante storie di bambini sofferenti, io ne ho scelta qualcuna un po' più significativa, in particolare parliamo di Carlotta che è una bimba abusata da bambina da suo padre, poi parliamo di un bambino che ha la mamma alcolizzata e che quindi non riesce a rendere bene a scuola, poi parliamo di una zingarella a cui si ha insegnato che nella vita bisogna rubare e quindi ruba, poi parliamo di un bambino che fa il lavoro nero al cantiere, adesso poi la domanda della canzone è evidente, sono cattivi i bambini o sono cattivi i genitori forse? Comunque la canzone fa così. Lui cammina verso la stanza, t'attengo il fiato e la lanza, poi si ferma e si ferma la porta, si tette ogni gira ma poi entra in son morta Allora, questa è la strofa, dopo ti faccio vedere il coros. Mi minore, quindi, Mi minore nona, nona, nona diesis, perché fa diesis e sonno. Siamo in do, questo è un do quinta, quindi questo è un do quarta, e questo è l'intro, poi lo strofa è... Quindi vedi che la seconda riga della strofa fa... Lui cammina dentro, ho perso la stanza, t'attengo il fiato, lui avanza... Quindi è semplice... Siamo sul do quinta... La, sol... No, scusami... Si, la, sol... E di nuovo Mi minore... Poi ancora... Sol... Quinta... Vedi che tocco il re invece del sol con il mignore... Quarta... Sol quinta, sol quarta, dopo... Re... E re seconda... Poi do... La strofa è tutta così per tutta la canzone, non cambia mai... Il chorus... Siamo bambini cattivi, anche se ci hanno uccisi, vi sembrassi amivi, abitati col pessimo esempio, infelici e distratti, Nella vostra onorale lo scempio... Quindi... Ora te la faccio vedere arpeggiata bene, che... Praticamente c'è la melodia anche nell'arpeggio del coro... Quindi ecco qui molto semplici, se vogliamo gli accordi sono molto semplici, si tratta solo di... Utilizzare questi cromatismi... Siamo bambinica... Siamo bambinica... Quindi... Do... Siamo bambinica... Holdig male... I bambinico... Als... I bambinico... Sui canale della quinta bemolle... trovi i pezzi con gli arrangiamenti fatti bene, quelli fatti da Flavio Cassano. Se ti piacciono testi che abbiano un riferimento all'attualità e che contengono magari anche un pizzichino di indignazione, di rabbia, di denuncia, credo che questo disco ti potrà piacere. Ciao!